Per il quinto anno si svolge a Torino in Piazza Castello il concerto per il 25 aprile. L'iniziativa è promossa dai comitati resistenza e costituzione del Consiglio regionale della provincia di Torino e dalla città di Torino in collaborazione con il coordinamento delle associazioni della resistenza e della deportazione. Il programma della giornata è stato presentato il 19 aprile a Palazzo Lascaris dai rappresentanti degli enti promotori. A partire dalle 16 si esibiranno numerosi artisti tra cui Paola Turci e Angelo Branduardi alternati da interventi di testimoni e studenti delle scuole superiori torinesi che leggeranno brani sulla resistenza e sulla liberazione. Il 25 aprile è un gran giorno e io sono molto contento di essere stato chiamato a farmi vedere sul palco di Piazza Castello. Ho dei vaghi ricordi di quel giorno, io avevo quattro anni però ricordo che mia madre ha preso per mano me e mio fratello e ci ha portati alla finestra a vedere che i tedeschi ce ne stavano andando. Quando li abbiamo visti scomparire lungo il Corso Dante nostra amante ci ha detto adesso possiamo dormire tranquilli. Erano le quattro di notte.